«Non ci sono remi! Come farete a riportare la barca all'altra riva?» domandò lo hobbit. «Datemi un altro tratto di corda e un altro uncino», disse Fili. E quando tutto fu pronto lo lanciò davanti nel buio, più in alto che poté. Poiché non ricadeva, capirono che doveva essersi impigliato tra i rami. «Montate adesso», disse Fili. «E uno di voi, tiri la corda che si è impigliata a un albero dall'altra parte. Un altro tenga pronto l'uncino che abbiamo usato per prima, e quando saremo al sicuro sull'altra sponda, lo agganci alla barca. Così voi potrete tirarla indietro». In quel modo furono presto tutti al sicuro sull'altra riva del torrente incantato. Dualin aveva appena messo piede a terra con la corda arrotolata intorno al braccio e Bombur, ancora borbottando, si apprestava a seguirlo, quando ecco capitare qualcosa di brutto. Ci fu un sordo rumore di zoccoli nell'aria. Sopra il sentiero davanti a loro. Dalla penombra uscì improvvisamente la sagoma volante di un cervo. La bestia caricò i nani facendogli ruzzolare a terra, poi si raccolse per saltare. Saltò molto in alto e con quell'unico energico balzo superò il torrente, ma non raggiunse in colume l'altra riva. Thorin era stato l'unico a mantenere l'equilibrio e la prontezza di spirito. Appena sbarcato aveva teso l'arco e incoccato una freccia, nel caso qualche guardiano della barca fosse uscito dal suo nascondiglio. Mentre la bestia saltava la colpì con un tiro rapido e sicuro. Arrivando sulla riva opposta, essa inciampò. Le tenebre la inghiottirono e si udì il rumore degli zoccoli sfumare rapidamente e poi svanire. Prima che potessero esprimere la loro ammirazione per il tiro, un tremendo grido di allarme di Bilbo scacciò dalla loro mente qualsiasi pensiero di caccia al cervo. Bombur è caduto in acqua! Bombur sta affogando! Era fin troppo vero. Bombur aveva un piede a terra quando il cervo era piombato su di lui, per poi passare oltre col suo grande palso. Il nano era inciampato spingendo via la barca dalla riva e poi era ruzzolato nell'acqua scura. E le sue mani si erano aggrappate in vano alle radici fangose della sponda, mentre la barca lentamente si staccava e spariva. Potevano ancora vedere il suo cappuccio a fior d'acqua. Quando corse il roverso di lui, gli lanciarono velocemente una corda con un uncino. La sua mano la afferrò e così lo trassero a riva. Era fradicio dalla testa ai piedi, ovviamente. Ma questo era il meno. Quando lo distesero al suolo era già profondamente addormentato e una mano stringeva la corda con tanta forza che non riuscirono a strappargli alla via. E profondamente addormentato rimase nonostante tutti i loro tentativi di svegliarlo. Stavano ancora tutti sopra di lui, maldicendo la propria sfortuna e la sua goffaggine. E lamentandosi della perdita della barca che rendeva loro impossibile tornare indietro e cercare il cervo. Quando avvertirono un fioco soffiare di corni nel bosco e un rumore come di cani che abbagliassero in lontananza. Fecero tutti silenzio. E mentre stavano seduti pareva loro di udire un trambusto di grande caccia che si svolgesse a nord del sentiero. Anche se non vedevano alcun segno. Sedettero lì a lungo senza azzardarsi a fare un singolo movimento. Bombur continuava a dormire con un sorriso beato sulla sua faccia grassa. Come se non si curasse più di tutti i guai che li travagliavano. Improvvisamente sul sentiero di fronte a loro apparvero dei cervi bianchi. Una cerva, alcuni cerviatti dal mantello tanto candido quanto del cervo era stato scuro. Essi brillavano nelle tenebre. Prima che Thorin potesse lanciare un grido tre nani erano balzati in piedi e avevano scoccato le frecce del loro arco. Nessuna sembrò colpire il segno. I cervi si voltarono e svanirono tra gli alberi silenziosi come erano venuti e i nani scoccarono in vano le frecce dietro di essi. Fermi, fermi! urlò Thorin. Ma era troppo tardi. In preda all'eccitazione i nani avevano sprecato le loro ultime frecce e ora gli archi che Beorn aveva dato erano inutili. Ben triste fu la brigata quella notte e la tristezza di tutti si fece più profonda durante i giorni seguenti. Avevano attraversato il torrente incantato ma al di là il sentiero pareva vagare esattamente come prima e non riuscivano a notare alcun cambiamento nella foresta. Eppure, se ne avessero saputo di più e se si fossero soffermati a considerare il significato della caccia e di quei cervi bianchi apparsi sul loro cammino avrebbero capito che finalmente stavano avvicinandosi al confine orientale del bosco e che se fossero riusciti a conservare coraggio e speranza sarebbero presto arrivati in zone dove alberi crescevano più radi e dove la luce del sole tornava a brillare. Ma non lo sapevano ed erano berati dal corpo pesante di Bombur che dovevano trasportare come meglio potevano affrontando quel compito gravoso a turni di quattro mentre gli altri si dividevano i loro fardelli. Se questi non fossero diventati fin troppo leggeri negli ultimi giorni non ce l'avrebbero mai fatta ma un Bombur beatamente addormentato e sorridente era una misera alternativa a bisacce piene di cibo. Anche se pesanti. Nel giro di pochi giorni arrivarono a non avere praticamente più nulla da mangiare o da bere non riuscivano a vedere niente di commestibile che crescesse nel bosco solo funghi velenosi ed erbe dalle foglie anemiche e dall'odore scheradevole. Dopo circa quattro giorni di marcia dal torrente incantato giunsero in un posto dove gli alberi erano per lo più faggi. All'inizio furono propensi a rallegrarsi del cambiamento poiché lì non c'era sottobosco e l'ombra non era tanto fonda. Ai lati del sentiero filtrava una tenue luce verdastra ma la luce mostrava solo infinite linee di tronchi grigi e diritti come le colonne di qualche vasta sala del crepuscolo. C'era un alito d'aria e si udiva un rumore di vento ma aveva un suono triste. Qualche foglia veniva giù frusciando a ricordare che fuori stava arrivando l'autunno. I loro passi calpestavano le foglie morte di altri innumerevoli autunni che il vento aveva accumulato sui bordi del sentiero strappandole al tappeto rosso cupo della foresta. Bombur dormiva sempre ed essi diventavano sempre più stanchi a tratti udivano risuonare risate inquietanti a volte sentivano anche dei canti in lontananza. Il riso era un riso di voci gentili molto diverse da quelle degli orchi e i canti erano belli ma sembravano irreali e strani ed essi non ne erano confortati bensì incalzati a lasciare quei luoghi con tutta la forza che ancora possedevano. Due giorni più tardi notarono che il loro sentiero cominciava a scendere e di lì a poco si trovarono in una valle quasi del tutto ingombrata di grosse querce. Non finisce mai questa maledetta foresta disse Thorin Qualcuno deve arrampicarsi su un albero per vedere se riesce a sporgere la testa dalla cima e dare un'occhiata al torno L'unico modo è scegliere l'albero più alto che sovrasta il sentiero Naturalmente qualcuno voleva dire Bilbo Lo scelsero perché l'arrampicatore doveva sporgere la testa sopra le foglie più alte pertanto doveva essere così leggero che i rami più alti e sottili potessero leggerlo Il povero signor Baggins non aveva mai fatto molta pratica nell'arrampicarsi sugli alberi ma essi lo insarono sui rami più bassi di un'enorme quercia che si ergeva proprio in mezzo al sentiero e dovette salire alla bella e meglio Si fece strada attraverso l'intrico dei rami ricevendo diversi colpi negli occhi Fu insudiciato e sporcato di verde dalla vecchia scorza dei rami più grossi Più di una volta scivolò e si afferrò appena in tempo e finalmente dopo un'aspra lotta in un punto difficile dove pareva non ci fossero rami adatti allo scopo giunse quasi in cima Continuava a chiedersi se sull'albero ci fossero ragni e come avrebbe fatto a ridiscendere se non cadendo